Le poche certezze nel guazzabuglio della Tasi si trovano sul sito del Ministero delle Finanze, al quale i comuni devono trasmettere dei liberi regolamenti. In Puglia al momento lo hanno fatto solo in quattro, San Ferdinando nella Bat, Bovino in provincia di Foggia, Lezio e Presicce nelle Cese. Qui sono state decise le aliquote di IMU, Tasi e Tari, e dunque la tassa sui servizi indivisibili si pagherà a giugno. Negli altri comuni pugliesi potrebbe slittare a settembre, condizionale ancora d'obbligo, perché il termine ultimo per l'approvazione delle delibere è fissato venerdì. Tre capoluoghi, Brindisi, Taranto e Lecce, hanno fissato il Consiglio Comunale la sera prima, con ogni probabilità però sia Lecce sia Taranto non approveranno le delibere. Altri otto comuni più piccoli hanno adottato decisioni in giunta ma non ancora in consiglio. Insomma, se tutte le Assisi dovessero approvare le delibere pronte, cosa niente affatto scontata, secondo la UIL al massimo sarebbero 15 comuni pugliesi in cui la Tasi si pagherà il 16 giugno. Per i cittadini di tutti gli altri 243 comuni il pagamento slitterà a settembre, se non oltre, visto che a Bari, ad esempio, il Consiglio Comunale uscente ha deciso per la rata unica a metà dicembre.